ciao ragazzi benvenuti a watching time oggi vi presento in questo video anche molto breve cercherò essere molto breve un altro orologio un altro modello di borealis vi avevo già presentato il bull shark e qualche settimana fa se non mi sbaglio che ricordava il big crown il rolex su marina e adesso vi presento la linea chiamata anche system tempesta marina se volete fare la traduzione visto che adesso siamo nella moda delle molte per utilizzare parole in inglese e il system mark per cui la seconda versione diciamo di questo modello è un modello che nasce come un diver con una forte ispirazione ovviamente vintage anche se non è che è facile identificare esattamente il modello un orologio che calza grande perché ha comunque un vetro saffero bombato con un doppio trattamento antiriflesso e alto 14 mm per cui non è piccolo di sicuro e in più c'è una casa di 41,5 per 48 da ansa ansa questo modello però è molto particolare data la colorazione allora di che cosa parliamo vi faccio vedere un po meglio e questa versione è stata fatta in collaborazione in realtà con un canale di youtube con un youtuber di orologi mettiamola così americano che si chiama random rock probabilmente alcuni di voi lo conoscete se non lo conoscete comunque a un canale in cui fa delle recensione un po di tutto da cassio fino a beh non è che va in modelli molto molto alti da un punto di vista di prezzo però comunque ha dei pezzi interessanti anche un parere un'opinione molto particolare e in questo caso borealis che lui aveva già recensito diversi modelli di borealis anche il sistone alla fine hanno deciso di di mandarle di fare questa collaborazione in cosa consiste questa collaborazione in realtà consiste più che altro nella colorazione di questo modello a proposito del sistone si presenta in versione solo tempo come questo o anche nella versione e con gmt e in movimenti che utilizza borealis sono prevalentemente citizen o seiko in questo caso c'è un nh 38 dentro è un modello discreto ovviamente non è l'nh 35 però è sicuramente un modello economico che permette di ridurre i costi di produzione offrire comunque un buon prodotto borealis e che vi dicevo è base in portogallo sicuramente sta offrendo dei prodotti di buona qualità sono molto contento con la qualità con la manufattura dei loro oggi e spediscono dal portogallo per cui della fabbrica cinese non c'è traccia anche da un punto di vista di spedizione c'è un controllo di qualità alto comunque perché gli orologi che ho rivisto di loro sono buoni e il prezzo molto molto contenuto infatti il sistone si vende intorno ai 399 dollari con le tasse pochino di più per l'europa però le tasse che comunque sono pagate al momento dell'acquisto è per cui non vi dovete preoccupare però penso che ritengo sia il prezzo giusto per un orologio comunque un certo livello di qualità e allo stesso tempo un movimento che una via di mezzo fra le svizzero e magari i movimenti più economici in giro detto questo abbiamo un orologio con 300 metri di resistenza all'acqua per cui un diver a tutti gli effetti una ghiera di 120 click che vi faccio sentire non ha il sono domani che io amo in alcune chiere non è una maniera di altissimo livello come quelle che magari troviamo in un tour o troviamo in altri altri orologi ma è ovvio pagherete molto molto di più che in quegli orologi per avere una ghiera diversa però comunque presente 120 funziona fa il suo lavoro perché non ha un ritorno e questo devo dire un ottimo lavoro come vedete la colorazione scelta molto particolare di questa collaborazione e a fa un mix di quattro colori al nero il blu marrone e il verde ha un po cercato di mischiare tutto in un orologio che in realtà si vende con questo cinturino di tessuto che riprende i quattro colori utilizzati che lo faccio vedere un po meglio giusto per rendervi conto uno dei punti di attrazione di forza di questo orologio proprio questo ma allo stesso tempo può essere quello che vi farà decidere di non prenderlo dato che comunque la colorazione molto particolare e magari difficile per alcuni quando lo acquista e chiesi anche la possibilità avere cinturino in acciaio loro hanno altri modelli più normali chiamole così per quel cinturino in acciaio è disponibile e alla vendita e ho deciso di comprarlo per in modo tale da montarlo e farvi vedere anche l'effetto che fa anche perché riduce drasticamente i colori del cinturino che riprendono quelli dei quadranti rendono il quadrante ancora più utilizzabile poi c'è questa parte del quadrante che mi ricorda l'intero per qualche motivo e con minor motivo il piacere di alcuni magari lo porteranno altri un po o meno comunque ritornando l'orologio con il cinturino in acciaio che devo dire è di ottima manufattura è comunque a vite per cui facile anche di cambiare mette la misura è un cinturino che si presta benissimo anche per l'immersione perché come potete vedere c'ha fra le maglie un espazio che lascia sia la sua orazione che eventualmente l'acqua nella copertura della cassa vediamo la numerazione non li mettete dicendo 50 pezzi e il luogo di random rob che è stato stampato dietro corona marchiata con la bite borealis 14 mm un orologio comunque grande però tutto sommato calza abbastanza bene vi faccio vedere il mio polso di 18 centimetri come potete vedere ha una visibilità con un'area di vintage diver sicuramente la colorazione lo rende un po più particolare degli altri orologi che troviamo in giro mi sento di consigliarvi borealis come un marco se vi potete affasciare ad un micro brand che offre dei modelli interessanti a un prezzo buono stanno lanciando anche un nuovo modello ancora non l'ho visto bene però mi è sembrato interessante dalle foto ci sono anche delle colorazioni particolari date un'occhiata è un marchio comunque spedisce dall'europa i prezzi sono buoni per la qualità che offrono per cui perché no se avete intenzione di avere un orologio che si assomiglia e che vi piace queste linee è un marchio interessante da valutare ovviamente non ho nessun accordo con loro per cui si dei libri di entrare ci sono tanti sconti che fanno prima stavo dando un'occhiata al sito per ricordarmi alcune cose dell'orologio e mi usciva il banner del 25 per cento per esempio per cui sicuramente riuscirete a trovare l'orologia molto di meno di quanto è il prezzo di listina bene ragazzi spero che vi sia piaciuto che sia anche interessante questo nuovo orologio di borealis e questa collaborazione random rob sono solo 50 pezzi per cui sicuramente interessante anche averlo in collezione e vi faccio vedere il citizen tiffany che di cui ne parleremo magari meglio ne abbiamo già parlato se non mi ricordo male comunque questo altro tiffany quadrante tiffany brady in super ocean dei modelli nuovi molto interessante perché c'è anche la chiesura di facile spostamento e il cinturino classico di brady che troviamo nei altri super ocean e una colorazione insolita per brady è sicuramente molto interessante per chi ama il tiffany e il bulluova lunar pilot che vi farò vedere a breve in un altro video in comparazione al classico 45 mm versus 43 bene ragazzi spero che vi sia piaciuto ci vediamo a breve nel prossimo video caro saluto a tutti